Abbiamo già visto il comportamento e le conseguenze della presenza di un campo elettrostatico per quanto riguarda un corpo conduttore e viceversa abbiamo anche visto cosa succede al campo elettrostatico quando introduciamo nel suo spazio un corpo conduttore. In questa lezione esaminiamo una configurazione particolare di corpi conduttori e consideriamone due corpi conduttori nel vuoto isolati rappresentati con queste forme e ipotizziamoli carichi con carica elettrica positiva. E negativa su uno dei due e negativa di uguale valore sull'altro. Sappiamo che distribuzioni di carica come queste nello spazio creano un campo di tipo elettrostatico che sappiamo avere le caratteristiche che possiamo intanto graficamente rappresentare con delle linee di flusso del campo elettrostatico di questo tipo. Ricordiamoci che le linee di flusso del campo hanno origine sulle cariche positive presenti sulla superficie esterna del primo conduttore. Ricordiamoci che il campo all'interno del conduttore sappiamo essere nullo in condizioni elettrostatiche, quindi la carica in eccesso, la carica netta presente sul primo conduttore è distribuita sulla superficie del conduttore e non al suo interno. Dicevo che il campo elettrostatico dovuto a queste sorgenti si irradia nello spazio intorno al conduttore partendo da direzioni perpendicolari alla superficie. Perché sappiamo che non può esserci una componente del campo orientata sulla superficie del corpo conduttore perché altrimenti le cariche libere presenti nel conduttore sotto l'azione del campo elettrostatico lungo la superficie sarebbero messe in movimento e quindi non saremo più in condizioni statiche, nelle condizioni di elettrostatica. Le linee di flusso che hanno origine quindi dal primo conduttore e dalle cariche positive terminano sull'altro conduttore dove sono presenti le cariche in eccesso negative sempre distribuite sulla superficie esterna del conduttore e ovviamente anche in questo caso terminano perpendicolarmente le linee di flusso alla superficie del conduttore. Come ulteriore indicazione sulla distribuzione delle linee di flusso si verifica che le linee di flusso sono più dense e quindi il campo elettrostatico risulta di maggiore intensità in queste configurazioni in corrispondenza delle punte del corpo conduttore. Quindi se la superficie esterna del corpo conduttore presenta delle sporgenze in evidenza rispetto al resto quindi proprio delle vere e proprie punte lì saranno i punti in cui le cariche elettriche si addenseranno maggiormente lì l'intensità del campo elettrostatico sarà maggiore. Comunque adesso consideriamo questa configurazione quindi ricapitolo un attimo due conduttori carichi uno con cariche positive l'altro con cariche negative di uguale valore. Una configurazione di questo tipo prende il nome di condensatore quindi noi abbiamo che questi due corpi conduttori formano quelle che prendono il nome di armature del condensatore e in generale la configurazione che abbiamo appena illustrata prende il nome di condensatore quindi la sua definizione è molto semplice vediamo adesso alcune conseguenze di quello che già sappiamo del comportamento del conduttore nel campo elettrostatico cosa sappiamo? Sappiamo ad esempio che tutto il volume del conduttore è un volume equipotenziale quindi si trova tutto alla stessa energia potenziale quindi ogni conduttore è equipotenziale e questo lo abbiamo già dimostrato in una precedente lezione quindi equipotenziale sia il primo che il secondo conduttore sono i due corpi sono equipotenziali nel senso di tutti i punti del corpo sono allo stesso potenziale però il potenziale dei due corpi conduttori non coincide quindi esiste una differenza di potenziale elettrostatico ovviamente fra il conduttore carico positivamente e il conduttore carico negativamente quindi se noi indichiamo con v1 il valore dell'energia potenziale del conduttore 1 e con v2 l'energia potenziale del conduttore 2 la differenza di potenziale tra i due prendendo come positivo maggiore quello carico positivamente questa differenza di potenziale sarà diversa da zero questa è la differenza di potenziale differenza di potenziale tra le armature tra le armature tra le armature del condensatore adesso si scopre sperimentalmente che il rapporto tra la differenza di potenziale la carica elettrica presente sulle stesse è una costante questa costante prende il nome di capacità si usa come simbolo solitamente la lettera C maiuscola ed è definita come il rapporto fra la carica presente sulle armature in valore assoluto quindi abbiamo detto che più Q è uguale a meno Q quindi consideriamo nel valore assoluto il valore positivo Q il rapporto di Q con la differenza di potenziale che si stabilisce in queste condizioni tra le armature del condensatore abbiamo detto che è una costante indipendente quindi dal valore di Q e dal valore di V ma dipendente esclusivamente dalla geometria del condensatore che stiamo considerando cioè dalla forma dei due conduttori che ne costituiscono le armature e dalla loro reciproca posizione nello spazio quindi diamo il nome questa è la capacità la definizione di capacità del condensatore e io ho appena detto che è dipendente solo dalla geometria del condensatore stesso questa dipendenza solo dalla geometria è vera se ci limitiamo come stiamo facendo al caso del condensatore nel vuoto vedremo più avanti che se cambia il mezzo nel quale sono presenti i due conduttori vedremo che la capacità del condensatore dipenderà anche dalle caratteristiche del mezzo interposto fra le sue armature vediamo adesso della capacità ci manca di definirne l'unità di misura quindi osservandone l'espressione abbiamo che l'unità di misura della capacità c sarà data dal rapporto fra la carica e la differenza di potenziale quindi sappiamo essere il rapporto fra coulomb e volt e a questa unità di misura gli si dà il simbolo F maiuscolo che corrisponde al Farad questa unità di misura è talmente importante che giustifica appunto il fatto di definirne un'unità di misura che specifica che prende appunto il nome di Farad poi risulta che nelle applicazioni pratiche il Farad come rapporto coulomb su volt risulta essere un'unità di misura molto grande quindi solitamente le capacità dei condensatori reali vengono espresse con i sottomultipli del Farad quindi in particolare i più utilizzati sono il micro Farad che è uguale a 10 alla meno 6 Farad oppure il nano ancora più piccolo il nano Farad uguale a 10 alla meno 9 Farad o ancora facile trovare condensatori di valore espresso in picco Farad cioè 10 alla meno 12 Farad quindi questi sono i sottomultipli spesso utilizzati un'altra cosa che possiamo dire del condensatore è come lo possiamo caricare come ottenere appunto questa carica uguale contraria sulle due armature e anche il simbolo circuitale che di solito i simboli circuitali che vengono utilizzati appunto per la rappresentazione quindi per fare questo allarghiamo un po' lo spazio partiamo dal simbolo circuitale abbiamo il simbolo circuitale il simbolo circuitale fondamentalmente sono due uno specifico rappresentativo delle armature del condensatore è di questo tipo accompagnato dalla lettera solitamente C maiuscolo che ne caratterizza il valore della capacità oppure più genericamente si può usare un simbolo di bipolo quindi sempre di un elemento a due terminali due terminali sarebbero due conduttori che come dire emergono dalle armature e portano all'esterno il collegamento che ci consentirà l'utilizzo di questa configurazione in un circuito quindi questi due terminali sono quelli rappresentati nel simbolo dicevo un simbolo generico di bipolo sempre accompagnato a maggior ragione in questo caso dalla lettera C maiuscola di solito appunto per caratterizzarlo come un condensatore dicevo come caricare un condensatore il modo più semplice che possiamo pensare di caricare un condensatore consideriamo il primo dei due simboli che abbiamo rappresentato immaginiamo di inserirlo in un circuito chiuso nel quale è presente un generatore di tensione che di tensione continua che usando la terminologia usata fino a questo punto stabilisce ai suoi terminali una differenza di potenziale di valore V costante ipotizziamo adesso io ho chiuso il circuito ma inizialmente ipotizziamolo ancora aperto con il condensatore scarico quindi senza carica elettrica sulle sue armature immaginiamo che a un certo istante di tempo consideriamo ad esempio un istante di riferimento a t uguale zero venga chiuso questo interruttore chiudendo il circuito quello che succede è che la differenza di potenziale ai capi del generatore determina un campo elettrostatico che si propaga lungo i conduttori che determina un un allontanamento degli elettroni liberi sulle armature del condensatore sull'armatura superiore del condensatore che vengono attratti spinti dalla forza elettrostatica che agisce su di essi quindi gli elettroni si allontanano dall'armatura superiore lasciando cariche fisse in eccesso positive dovute appunto al fatto che gli elettroni si allontanano quindi lasciano delle cariche positive non più compensate sull'armatura superiore contemporaneamente gli elettroni che diciamo si allontanano dall'armatura superiore vengono sospinti verso l'armatura inferiore e quindi si accumulano in eccesso questa volta sull'armatura inferiore ed ecco che si forma una carica negativa sull'armatura inferiore una carica positiva sull'armatura superiore e queste quantità di cariche saranno sempre uguali tra di loro perché tanta carica viene prelevata tanti elettroni vengono prelevati dall'armatura superiore e tanti ne vengono sospinti verso l'armatura inferiore grazie